Questa è mia zia, la sorella di papà, Nina Mazzetti e lui è Robert Einstein. Questo, Heinrich ha due figli, Edith e Robert, e Heinrich ha Albert Einstein e Maya. Questo è Albert Einstein, che quando è a New York fa lo scienziato e quando è in Toscana va in Altalena. Ti piace questa bellissima ronana? Che si innamora di papà. Il papà si innamora di mia mamma e hanno un sacco di amici, sono tutti futuristi. Questo è Giacomo Balla, questo è Severica e mamma. Guarda lei come lo abbraccia in modo carino. Si vede che si ama. Bambine, settimine, due gemellini, Renata, Gianna Artasio, che mi fanno male. Questa sono io, si capisce, si vede, mi assomiglia a un giuramento fascista, che faceva così. Giuro di ubbidire senza discutere agli ordini dell'induce e se necessario dare la mia vita e il mio sangue al partito fascista. La luce delle letterine lui mi rispondeva, anche perché gli avevo scritto che i fascisti avevano preso Nello, l'avevano picchiato, l'avevano fatto sparire, che la nostra tata era incinta di Nello e gli avevano detto che queste cose non si fanno. Mi pare che sì, ho scritto così. Caro Luce, queste cose non si fanno, non sta bene prendere l'impressione e picchiare. Però penso che non mi risponderà perché l'ozio mi ha detto che è catturato il governo. Luce, queste cose non si fanno, non si fanno, non si fanno.